Netflix non ha confermato ancora la produzione di una stagione 2 per Freud. Cerchiamo dunque di raccogliere tutte le informazioni attualmente disponibili su eventuali nuovi episodi. Il 23 marzo 2020, Netflix ha reso disponibile la prima stagione di questa nuova serie TV, che in poco tempo in Italia è entrata nella top 10 del servizio, raggiungendo addirittura il primo posto. In Austria, dove lo show ha debuttato in TV, sono stati oltre 400.000 a sintonizzarsi sul canale ORF per assistere alle indagini di Sigmund. Ci sarà dunque spazio tra i prossimi progetti del colosso dello streaming per una stagione 2 di Freud? Per il momento non abbiamo ancora una risposta a questa domanda. Dopo aver analizzato le visualizzazioni, Netflix prenderà una decisione. Nell'attesa di sapere quale sarà il futuro di Freud, cosa potrebbe portare in scena la trama di un'eventuale stagione 2? La storia con cui è stata presentata la serie segue le indagini di un giovane Sigmund Freud, mentre collabora con un ispettore di polizia e una medium per catturare un pericoloso serial killer che terrorizza la capitale austriaca. Il mistero della prima stagione è stato risolto nell'arco dei suoi otto episodi. Di conseguenza un eventuale secondo capitolo vedrebbe un nuovo caso al centro della trama, di cui Freud, Fleur e l'ispettore Kiss si occuperebbero. La stagione 2 potrebbe anche mostrare un'ascesa nella carriera di Sigmund, grazie alla formulazione delle sue nuove teorie. Freud II, qualora vedesse la luce, dovrebbe riportare in scena lo stesso caso del primo capitolo. Ad interpretare Sigmund Freud sarebbe nuovamente lo strepitoso Robert Finster, mentre Ella Ramf destirebbe i panni della medium Fleur Salomé. George Frederick, invece, riporterebbe in scena l'ispettore di polizia Alfred Kiss. A loro fianco nel cast della serie potremmo trovare poi anche i seguenti attori con i rispettivi personaggi. Christopher Krutzler e Franz Poschaker, Brigitte Green e Lenore, Nedive Molcho e Ellie Bernest. Molto probabilmente, inoltre, il cast di Freud II potrebbe anche accogliere qualche new entry. La serie è una produzione satel film, con Enric Ambrose, Mortis Polter e Mike. Netflix ha commissionato un totale di otto episodi da 50-60 minuti l'uno per la prima stagione, e di conseguenza dovrebbe partire allo stesso ordine anche qualora venisse confermato un nuovo ciclo. Per quanto riguarda il versante streaming, trattandosi di un titolo originale della piattaforma, la visione online è l'unica alternativa esistente per poter accedere alla serie TV. Tutto ciò che serve è un abbonamento al servizio. A questo punto, quando esce la stagione 2 di Freud? Come avete avuto modo di sentire, ad oggi non vi è la certezza che Netflix decide di riservare ancora spazio al titolo. Di conseguenza, ancora non abbiamo notizie relative alla data di uscita. Dovremmo prima attendere che Netflix annunci il rinnovo, e solo allora potremo parlarne concretamente. Quando è possibile, la grande N cerca di mantenere una distanza di circa un anno tra il rilascio di una stagione e l'altra. Molto dipende, comunque, dal tempo che deciderà di prendersi prima di annunciare, nel caso, il rinnovo. In questo periodo, in particolare, la piattaforma si trova anche a dover fare conti con un'emergenza molto importante come quella del coronavirus, che l'ha già costretta a rimandare diverse uscite. Non appena avremo informazioni più precise sulla stagione 2 di Freud, non esiteremo ad aggiornarvi. Grazie.